Se vi state chiedendo se la mafia è una presenza anche in Veneto, sappiate che vi state ponendo una domanda che avreste dovuto farvi alcuni anni fa. Questa è la difesa di domenica 19 marzo 2023 e la copertina è dedicata alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di tutte le mafie. La giornata del 21 marzo, fondata da Libera e poi riconosciuta anche da una legge del nostro Stato. Ebbene, la giornata quest'anno sarà celebrata a Milano, ma rimane per noi un'occasione per riflettere sulla presenza e non più le infiltrazioni così sporadiche della mafia, barra delle mafie qui nel Veneto. La risposta è sì, certo che c'è ed è una presenza stabile, ce lo dicono le inchieste. La riflessione alatera è che non siamo ancora sicuri che nella società civile si siano sviluppati i necessari anticorpi a far fronte a questa presenza scomoda. Dunque, come vedete, dedichiamo le copertine di questa domenica alla giornata che ricorrerà poi martedì prossimo, 21 di marzo. Dedichiamo anche il servizio di primo piano dove sentiamo una serie di voci. La prima che voglio leggervi, poi approfondirete, è quella del professor Antonio Parbonetti che insegna economia e finanza qui all'Università di Padova. La presenza mafiosa, ci dice Parbonetti, è stabile da tempo in tutta l'Italia settentrionale. I gruppi malavitosi più strutturati sono a tratti sia della ricchezza storicamente presente qua da noi ma anche delle successive crisi. Con poche migliaia di euro si comprano un'azienda, vanno avanti, riciclano e continuano il loro business. Ecco che cosa aggiunge tuttavia Vittorio De Lutis, che è una giovane vice-referente regionale di Libera. Le inchieste sicuramente hanno aperto gli occhi a tanta gente, riflette, ma non parlerei di anticorpi del territorio perché quanto, quando è stato fatto, sono arrivate presto le smentite anche qui, ovvero abbiamo visto insorgere nuovi fenomeni mafiosi. Procediamo con il nostro giornale. Altro fenomeno è un fenomeno culturale che prende vita proprio questo fine settimana in fiera a Padova. B-Comics ormai è una tradizione. Manga, anime, quindi fumetti, libri, ma anche telefilm, cartoons e tanti cosplayer come quella che vedete qui nella nostra pagina. Come è stato possibile che questa cultura orientale si sia di fatto imposta o quantomeno abbia affiancato quella soprattutto made in USA che ha permeato per tanti anni, soprattutto grazie al cinema, anche la nostra cultura? Bene, è una riflessione che questa settimana facciamo con queste persone, quindi che vedete qui Fabrizio Savorani che è il direttore artistico di B-Comics, Silvio Franceschinelli che a Legnaro ha fondato la scuola Il Mulino, una scuola che è un ponte tra Oriente e Occidente, e poi Yoshi Nishioka, originale di Osaka, che insegna giapponese sia all'Università di Ca' Foscoli sia proprio al Murino. Leggete un po' perché è un fenomeno interessante che coinvolge migliaia e migliaia di persone. Sezione Chiesa, la terza del mese come sempre è la settimana del nostro approfondimento su due pagine, lo vedete. Qui è complessissimo leggere qualcosa perché il tema è ampio ed arriva direttamente dalla nostra attuale, in corso, esperienza del Sinodo Diocesano. Il tema è quindi quello del discernimento comunitario. Che cos'è? È qualcosa che abbiamo interiorizzato nelle nostre parrocchie, nelle loro prassi, nel loro modo di guardare i problemi, di prendere delle decisioni pastorali o no? È qualcosa che i cristiani hanno fatto loro o è ancora qualcosa da venire, un auspicio, qualcosa che arriverà? Ne parliamo con Don Giovanni Molon, che è l'assistente spirituale del Seminario Maggiore di Padova, ma ne parliamo anche con alcuni parrocchi e alcune comunità. Eccoli qua. Allora, Vigonza e Peraga, vedete il parrocco Don Alessandro Spezzi, ma anche il vicepresidente del Consiglio Pastorale di Peraga, Martino Stivanello, Oronchi di Casal Serugo con Don Giorgio Bozza, e poi le parrocchie di Cervarese, Santa Croce, Saccolunga e Montemerlo con Don Mattia Biasiolo. Sentiamo quali sono le loro esperienze. Se ne avete o volete segnalare altri temi per questi approfondimenti, redazionechioccioladifesapopolo.it. Ancora avanti perché il 21 marzo saranno 10 anni dal ritorno alla casa del padre di Don Giovanni Nervo, 7 anni da quella del suo amico fraterno, collaboratore e collega di una vita, Don Giuseppe Benveniù Pasini. Lunga intervista doppia al direttore attuale presidente, anzi della Fondazione Zancanti Ziano Vecchiato, a Don Luca Facco che invece è già stato direttore di Caritas e adesso è vicario episcopale per i rapporti col territorio, che parlano di questi due giganti della carità e della chiesa del Novecento che il 21 marzo saranno anche ricordati con un convegno presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Altro passo avanti perché giovedì 23 marzo invece, due giorni dopo, la diocesi di Padova, in particolare una quarantina tra laici e preti, ma anche rappresentanze di opere come la Difesa del Popolo, noi stessi, l'Istituto Barbarigo e anche la Casa del Fanciullo andranno in Friuli Venezia Giulia a Feidis, nel paese natale e dove oggi è anche sepolto, come vedete, Monsignor Luigi Pellizzo. Perché ricordiamo questo vescovo di Padova la cui storia è stata assolutamente controversa? Perché proprio il 23 di marzo ricorrono i cento anni della sua, diciamo così, cacciata da Padova. La storia è certamente molto dolorosa, al punto che la storica dell'Università di Padova, Miliana Billanovic, che ha dedicato un libro a questo, parla niente meno che di una congiura di Curia. Ecco qua, guardate, una congiura ordita nella chiesa di Padova. Episodi veramente molto, molto particolari. Tuttavia, in questi cento anni, si è anche compresa la grandezza di questo vescovo. Ecco che il vescovo Claudio, anzitutto, ma anche il resto della chiesa, ha cominciato a riabilitarne la figura e oggi si va in pellegrinaggio. Naturalmente parteciperemo anche noi della Difesa del Popolo. Sentite solo un breve passaggio di Billanovic. Quella del Pellizzo è una formidabile figura di vescovo, che ha dimostrato una straordinaria capacità di interpretare la realtà del suo tempo e approntare strumenti, strutture, modalità organizzative per intervenirvi operativamente e fruttuosamente secondo una strategia politica efficace e intelligente e secondo una lungimirante visione tradotta nella concretezza di una indefessa ed esigente azione di pastore e di capo della diocesi dal piglio senza dubbio autoritario e decisionista. Ecco, allora in queste due pagine di Lorenzo Brunazzo ripercorriamo quella storia anche con gli episodi più scabrosi e poi andremo in pellegrinaggio. La prossima settimana ve lo racconteremo. Passo in avanti perché sta per arrivare la TAV Brescia-Padova, treno ad alta velocità. Qui vedete già cosa succede oggi nella parrocchia di Montà, chiesa di San Bartolomeo, i ragazzi giocano in patronato, il treno ad alta velocità sfreccia a un metro. Allora, i comitati sia di Montà ma anche dei comuni di Urubano e Mestrino dove la tratta passerà si chiedono che tipo di interventi, quali sono i progetti, perché osservano misurazioni, sopralluoghi, sopralluoghi di uomini ma anche di droni. Tutto fa pensare che l'inizio dei cantieri sia assolutamente prossimo, però non si conosce ancora che cosa succederà. I cittadini chiedono chiarezza sulla TAV a Padova ed intorni. La Finlandia ha cominciato a costruire il proprio muro sui 1300 chilometri di confine con la Russia e sarà un muro numero 20 purtroppo in Europa, quindi anziché liberarcene con Berlino stiamo continuando a mettere barriere tra di noi. Chiudiamo con questo bluesman padovano, voi non sapevate forse, ma Claudio Bertolin, che è nato al Portello, quindi in città, zona universitaria, è stato sostanzialmente l'importatore del blues in Italia, parliamo degli anni 70. Leggete questa intervista con lui, molto molto interessante. Numero ricco stasettimana della difesa perché c'è anche la nostra inchiesta mensile dedicata questa volta all'industria libraria. Ecco qua le mappe, un mondo di carta, il libro è ancora un'esperienza che unisce tatto e fantasia. Gustatevelo, molto curato come al solito anche graficamente e continuate a seguirci su difesapopole.it, su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e anche su Mastodon. Buona settimana e arrivederci al venerdì prossimo.